7 rimedi naturali per alleviare i sintomi dell'orzaiolo. Sebbene siano tutti rimedi efficaci nel trattamento dell'orzaiolo, evitate di combinali tra loro perché potrebbero scatenare reazioni indesiderate. L'orzaiolo è una piccola protuberanza causata dall'infiammazione di una ghiandola sebacea che si trova sulle palpebre. È una sorta di brufolo o bozzo di solito sensibile al tatto e quasi sempre accompagnato da un eccesso di lacrimazione, sensibilità alla luce e fastidio all'interno dell'occhio. La causa più comune dell'orzaiolo è la proliferazione di batteri della specie Staphylococcus aureus. Staphylococco, anche i responsabili possono essere altri agenti patogeni. In generale l'orzaiolo si sviluppa in poco tempo e guarisce spontaneamente dopo qualche giorno. È abbastanza fastidioso, può infiemmarsi ed è considerato antiestetico. Per fortuna, ci sono diversi rimedi naturali le cui proprietà sono utili nel trattamento dell'orzaiolo facilitandone la guarigione. Oggi vogliamo parlarvi dei 7 migliori rimedi naturali contro l'orzaiolo. Provateli fin dalla comparsa dei primi sintomi. 1. Impacchi caldi L'applicazione di impacchi umidi e caldi sull'orzaiolo è utile per ammorbidire l'ostruzione nel condotto della ghiandola sebacea. L'uso di questo rimedio riduce l'infiammazione, calma il fastidio e l'irritazione alle palpebre. Cosa dovete fare? Inumidite un panno pulito con acqua calda e applicatelo sulla zona in questione per 10 minuti. Ripetete il procedimento 3 o 4 volte al giorno. 2. Infuso di prezzemolo L'uso esterno dell'infuso di prezzemolo ha degli interessanti benefici per quanto riguarda la guarigione dell'orzaiolo. Le proprietà antinfiammatorie e calmanti di questo infuso riducono le dimensioni della protuberanza e controllano l'irritazione. Inoltre, il prezzemolo purifica la zona esterna degli occhi e aiuta a rimuovere la polvere e le sostanze in superficie. Cosa dovete fare? Preparate un infuso di foglie di prezzemolo e, una volta raffreddato, applicatelo sulle palpebre con un batuffolo di cotone o un panno pulito. Lasciate agire da 10 a 15 minuti e ripetete il trattamento fino a 3 volte al giorno. 3. Bustine di infuso di camomilla Le proprietà antinfiammatorie e rinfrescanti dell'infuso di camomilla permettono di ottenere una buona soluzione per curare rapidamente l'orzaiolo. L'applicazione diretta riduce le dimensioni della protuberanza e combatte i batteri responsabili dell'infezione. Cosa dovete fare? Inumidite le bustine di infuso di camomilla in acqua bollente e, una volta raffreddate, applicatele sugli occhi. Lasciate agire 15 minuti e ripetete il trattamento 2 o 3 volte al giorno. 4. Curcuma I composti antibatterici ed antinfiammatori della curcuma la rendono un'ottima soluzione contro le infiammazioni causate dall'orzaiolo. Ingredienti 1 cucchiaino di curcuma in polvere, 5 g, 1 tazza di acqua, 250 ml, cosa dovete fare? Aggiungete un cucchiaino di curcuma in polvere a una tazza di acqua bollente e, dopo che si è raffreddata, sfregate l'infuso sugli occhi con una garza o un panno pulito. Usate questo rimedio 2 o 3 volte al giorno. Potete anche applicare l'infuso con un contagocce sulla zona interessata. 5. Aloe vera I meravigliosi cristalli della pianta di aloe vera sono grandi alleati per accelerare la guarigione di un orzaiolo. L'aloe è ricca di sostanze antibatteriche e idratanti, se applicata localmente, combatte l'infezione e dà sollievo. Cosa dovete fare? Estraete il succo di aloe dalla foglia di aloe vera e usatelo per massaggiare dolcemente le palpebre. Lasciate agire 5 minuti e poi risciacquate. Se volete, potete inumidire un batuffolo di cotone con il succo naturale di aloe e sfregarlo sulla zona in questione. 6. Cetriolo Il cetriolo è un ortaggio ricco di acqua, antiossidanti e proprietà antinfiammatorie che possono aiutarvi a curare l'orzaiolo. Contiene anche composti dalle proprietà astringenti e rinfrescanti che possono ridurre le borse e il fastidio causato da questa condizione. Cosa dovete fare? Tagliate varie fette di cetriolo e applicatele sulle palpebre dove c'è l'orzaiolo. Lasciate agire 5 minuti e ripetete il trattamento fino a 4 volte al giorno. 7. Calendula La calendula è una pianta dalle proprietà antibatteriche ed astringenti che contribuiscono ad alleviare i sintomi causati dall'ostruzione della ghiandola sebacea delle palpebre. L'applicazione attraverso impacchi riduce l'infiammazione e l'arrossamento ed evita il dolore e il prurito. Cosa dovete fare? Preparate un infuso di fiori di calendula, lasciate raffreddare e poi applicatelo sulla pelle con degli impacchi. Usate questo trattamento 3 volte al giorno fino a trovare il sollievo desiderato. Scegliete uno dei rimedi naturali che vi abbiamo proposto e applicatelo seguendo le raccomandazioni date per ottenere buoni risultati e risolvere il problema dell'orzaiolo. Provate un rimedio alla volta. La combinazione di diversi trattamenti potrebbe scatenare reazioni indesiderate.